Come ogni santo Stefano che si rispetti, santo Stefania è arrivata con i carrelli, ve li facciamo vedere all'interno del video, mi ha portato un regalo Ma soprattutto? Ah, con l'archivazione del Mary 50, ma il regalo pure per voi, il mascara in tutti gli ordini che superano i 50 euro Come si fa? Un minimo di ordine di 50 euro scontato nel carrello, escluso le spese di spedizione È un mascara che da solo viene 21 euro, cioè ragazzi io non so, guarda È un mascara bellissimo Solo io perché, solo perché è Natale Solo perché sento Stefano Ah è vero, sì, ma è Natale, sento Stefano, è tutta la cosa, per il buon anno Comunque, questo è il look che ci siamo fatti, la mia faccia la vedrete dall'inizio perché sono ancora un po' raffreddata, quindi vedrete l'effetto Ma il risultato è questo, intanto io Red, lei Deep Red, sulle labbra abbiamo cambiato Gli occhi li abbiamo fatti con gli stessi prodotti, ma di che team siete? Red o Deep Red? Ma Deep Red sicuramente, Deep Red è più bello, ma che è che no, Deep Red? Red, vi lasciamo al video e speriamo che siate contenti insomma del mascara in omaggio, perché il mascara di Stefano ne è mai abbastanza A Natale subito Ciao amiche, buon santo Stefano Ciao Vabbè, da così siamo partite stamattina Io senza trucco non vado in onda Non posso, intanto voglio dire perché sta tutta la cosa dalla parte tua e non dalla parte nuova Io intanto, siccome è tornato l'orange, in crema, mi copro questa occhia È certo che è tornato, quelle stavano avvelenate, non puoi capire Ma tra l'altro stiamo registrando, queste paio così in centro, c'è le gambe lunghe Chino 20 con un bel appoggio, perché Stefano mi ha portato come regalo il carrelli Buon Natale, è arrivata la papà Natale Aspettate, vi cercherete di farvelo vedere anche se non è molto carino Guarda, finalmente non cascherà più nulla, guardate, finalmente Vi fa natural uno Senti, avete mangiato ieri, che avete fatto? Io sono tornata in tempo Come andate a fare? Di Corsa, bello, sono bellissimo Senti, intanto mi sono messo il correttore in crema, ma tu già sei al fondo di vita Io ho già messo il nero al volo, amica Dai, senti, dobbiamo andare a fare il pranzo Ma dobbiamo andare a cucinare, io adesso mi metto il frutto Ma ti fai per me al pranzo, poi oggi? Ma no, veramente, adesso finiamo questa cosa Dobbiamo andare a cucinare, perché mi arriva gente pure a casa Ah, vieni, non rimani? Vai via No, me ne vado, vabbè Ah, ha fatto tanto la colazione, mi risposto Vabbè, non ho un pezzo di panettone Te lo do dopo, ci riprendiamo il pezzo di panettone dopo Sfruttiamo questo momento che i bambini stanno dell'acqua Fabio Ah, infatti Ok Mi ha portato pure i regali, com'erano? Lucio Sesto Lucio Sesto Allora, uso la cifra con Fabio Per chi non è di Roma, che non lo sa, perché qui siamo a zona San Giovanni Ah, si può dire che siamo a zona San Giovanni? A Fioratino A Fioratino Vabbè, ci sono le fermate, siccome abbiamo Lucio Sesto, Furio Camillo, Giulia Gricola Scusa come Scania Aurelio, lei dice, sono i nomi troppo urmani, sembrano quelli del... Mi fermate Mi chiamano così, ma... Mi setto, come dici il te... Serto Mi setto con la white, la cifra con pazza white Anzi, sto mettendo la macchina Anzi, no guarda... Anche per le sovracciglia, anche la mia tecca è piccolina Io faccio vedere che si può mettere pure con questo Più o meno E fate soft baking Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Mi ha mandato una foto a una che gli era rimasta veramente un bozzicule così Ah, hai visto? Cadono uguale le cose Però, hai visto? Che stanno c'è il carrello, guarda dove è finito Dentro il carrello Ma io guarda... Questa è fortuna, amica La fortuna Va bene, torniamo al trucco Ah, io invece ho una tecca un pochino più nuova perché ovviamente Sì, ma c'è la tecca pure più nuova ma sei pure un attimino più lenta Sì, ma intanto c'è la frangetta, questa ho tagliato, una frangetta corta, vediamo Allora, diciamo la tecca, tecca e la natte, le matite che riconoscete Le trovate tutte quante sul sito col codice MERY50 Che ormai è un classico di Natale Ma te, guarda che te, stavolta, guarda Stavolta lo sai che un po' di faggio passato sul Santo Stefano Si, attacca dal balcone Allora, se si serve, lo so Lo passo sullo scolino E lo passo sulle sopracciglia dopo aver messo la matita Per fare l'effetto fissa Esatto Guarda, mi faccio l'angoletto qui Mi copro i pelettini bianchi La cosa bella di questa matita teca è che ti copre pure i pelettini bianchi Il correttore Ti fa anche il caffè? No Il correttore ti copre anche le vergogne Io nel frattempo Che ti stai mettendo? Un po' di colpertina Ma la fai pure a me Ma la metti pure a me Va bene Che da una certetà non ci vedi Guarda, cambiamo anche il pennello Mi sono portato i pennelli da casa Stavolta l'ultima volta ci ritroviamo i pennelli Vedi, brava Ma sei capace? No No Mi sfini? Non ti sfino Ti chiasso A me già mi confondono spessissimo con la Bellucci Delle volte anche con Jennifer Lopez Immagino È una roba che facilmente ci si confonde Dico sì Capita spesso Ma secondo me la cosa Capita a loro No ma La Bellucci la ferma Ma tu assuniste? Ma quello succede pure a lei Ma quello sicuramente Poi gli dico No ma vedi con gli occhi azzurri Non posso essere alla Bellucci Ma io ci metto un po' di acqua Ma capisco che A proposito di acqua Mi sono dimenticata l'acqua per lui Chi? Ah l'acqua per lui Vabbè Quindi ho usato qua dentro Puoi fare come la Ti ricordi come faceva la cosa? La La Come si chiamava? Quella dei fantozzi La pina? No la pina La signora Silvani Che ci sputava dentro No Ho messo la pina qua dentro Ho preso il soft orange Eccolo qua Scusa Perché il soft orange È delicato Quindi quando Una giornata come questa Ma io vorrei andare con il rossetto rosso Quindi il soft orange Sta benissimo Lo sai che faccio amica? Che? Io faccio una cosa al contrario Quando voglio mettere il sinto Dai facciamoci prima le bocche Faccio prima la bocca Lo sai che è una cosa che facevo tantissimo Io quando ero giovane Cioè sono ancora giovane Giovane Ma quando ero ancora più giovane di adesso Io mi prendo il deep red Guarda nuovo nuovo Appena scartato Guarda con la mia calmetina Pronti? Quanto mi piace sta cosa a me È calda È cascato Ah è cascato Non è cascato nel carrello Sto fa? Oh no Guarda quanto è bello il deep red Allora io mi metto subito il deep red E poi mi faccio il contorno Io non vi faccio il contorno Che facciamo? Canticchiamo adesso Al momento del canticchiamo ma tutto a posto ragazze allora se non c'è niente da fare scopate andate sul sito e fate acquisti io io faccio di credo io ero chiuso più di però che c'è quello che ha detto la romana maione maglione il maione con te esce di più la romanità che in me perché perché chissà curioso di roma nord certo proprio a me nord oeste non c'è altro un gruppo nord allora messo il mio red adesso posso truccare l'occhio io mi sono presa l'eyeliner nel cake quello che si attiva con l'acqua siccome dimenticato di usature non messa qui nel tappino lo sai che ho fatto l'altra volta col tappino dimenticato che c'era allora se voi provi prendete non fate come la mariana domenette del tappino ci sarà il kit eyeliner che si è stato a 10 minuti amica ma tanto tagli poi non posso tagliare che lei vuole che poi giustamente perché poi sono tante amiche che dicono che su instagram non c'entra ma se dura più da un quarto d'ora non ci va va bene comunque stavo dicendo che ci avete la liner con la ciotolina e il pennello tutto quanto nel kit prende kit eyeliner così non dovete fare la finale mariana tammeredette con i tappini però necessita fa virtù ma quando è quello basso a chi lo dici il mio eyeliner nel cake guardate quanto è bello passato così prima che si asciughi prendo il pennellino r1 siccome la mariana sta utilizzando la linea che vuole fare pure io io lo sai che cosa faccio inizio già a mettermi i punti luce che all'edite un bel perl e vi faccio vedere noi dobbiamo fare alla fine lo stesso trucco però io parto dai punti luce ah sì insomma cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia mi faccio il punto luce qua vedere se avete dei punti luce guardate come le ombre perché io non ho messo il fondo all'interno sull'occhio guardate come l'ombra già viene automatica perché l'ombra della nostra pelle guarda che sembra che c'è un'ombreggiatura fatta come saranno dai grazie alla padella quando mette le liner pure io ma tu lo fai con questa non mi piace con l l1 perché la facoltà con l'ho messo carica tutti i tuoi ma ragazzi ma questi sono ombretti veri non sono ombretti finti ombretti del supermercato troppo non vi preoccupate che lo potete sfumare senza perdere niente quindi andate a spalmare sul resto dell'occhio in un attimo con il polpastrello poi mi prendo il dark no i brown però comunque la perdita della vista aiuta perché non ti fa percepire le rughe quello è vero ma neanche quando ti fai tutto storto però anche quando ti fai il trucco storto ma sì allora con il brown e un pennello r2 sfumo sia sopra il liner che un po nella piega palpebrale vado verso fuori è stato un pelo non ho mai fatto palpebra il mascara ha capito questo poi con il mio amatissimo pennello s1 prendo la mascara eyeliner ti ho detto mascara perché ah l'S1 quello è il pennello di marianna il pennello di marianna sfumo qui e vado verso fuori perché lo stesso ombretto con la sedola più lunga e rimane più leggero ma si stanno che non mi ha chiesto ancora di fare qualcos'altro tra un po te lo chiedo no con la terra sfumo superiormente però siccome mi piace ancora quel pizzichino più argente o prendo pure il silver alla casereccia col polpastrello dammi un po di silver pure a me dai io sto ancora e me lo metto qua al centro ma questo è già finito il trucco io sto ancora così io penso sto rientrando anche nel quarto d'ora poi visto che tu sei lenta dammi un po di silver che è viatelo ma lo sai che questo video non rientrino mai nel quarto d'ora ma lo tagli non è possibile prendo la matita black e la sfumo dentro l'occhio nella parte inferiore comunque ragazze guardate in due secondi hai fatto il trucco ma non so per di niente una volta bello peraltro io tutti se mette il nero si è messa sì amica certo e adesso sempre con il brown un pochino guardate quanto un caldo e un freddo aia e sa da una botta sono ho capito ma non è messo il nero la matita nera mi sono messa ma non ti sei sfumata col nero l'ho sfumato con il brown col bravo penso che sto mascara finito se vuoi intanto vado a fare non so a tagliare il pandoro al panettone che hai fatto vado a tagliare il pandoro infatti c'è una moglie di pandoro guarda da quest'ora che viene a fame guarda mi faccio un po di ombreggiatura in questo punto se riesce a essere veloce riesco anche a metterlo rapidamente il video perché non lo devo montare no ma ti devi sbrigare che questo lo aspetta nel video non è che possiamo attaccare a perdere tempo capito io ti lascio ragazzini voglio dire il video di natale forse devo andare a pattinare quindi mi devo sbrigare io pure sto mettendo un mascara il famoso mascara in omaggio che dici ci mettono chiaro è un peccato no peccato devi mettere mettiti un corno una cosa non c'è ricorda la diavoletta io so diavoletta che ti sei messa scampanellio adoro ma adoro mi pare l'arbero di natale è bello quello però a uvim felice novità noi niente quelle quermesse cucci con noi a uvim anziché non t'ho detto bancarella l'amica tra l'altro saranno tipo tre anni e che stanno nello scorso e no ma se ricicla mica si può buttare via la roba ma tu hai ricette sei pure macchiata con mascara non è vero amiche stiamo andando a mangiare allora guarda questo trucco è facile da fare con quattro ma non è diverso ma io non mi sono messo la matita dentro ma io sto guardando nel mio caso da me l'orange compatto io vorrei coprire un po' di più l'occhiaia e c'è una certa ma mi ha fatto perdere ma il fair mi devo mettere mi cavo fai un quarto d'ora il mondo noi chiacchieriamo no ma poi mi metti l'ansia io sono una ragazza così semplice si e pontilungo e furio non ci riclamano il fair il fair corbuco dove sta il fiumino anche perché ragazze ho problemi di occhiaio oltre che colori ma poi se sopra ci mettete un po di fair guarda scusate io vorrei farvi vedere che anche mettendo guardate il fair il l'orange e la cipria white prima il fair il fair corbuco poi a te non piace questo fair perché vedo che non lo usi no praticamente lo vedo che il fair lei non non le piace para ponzi ponzi parte il video quando sto mascare l'omaggio fino non lo so 12 24 36 tre giorni basta quindi 26 27 e 28 basta scusate ma non ci vedo perché si è un problema intanto voi siete più da team red o team red buon salto stefano riposatevi ciao